Ti ricordi anche quale partita? Lo ho servito la prima partita del nuovo mister Pugliese? No, questo qua è nuovo Che si chiama? Manolo Alessandrini Manolo Alessandrini, è vero, sì, me l'ho dimenticato Allora, quindi il mister si è fatto subito conoscere Ti ha subito convocato, ti ha messo subito in campo Vuoi bene il mister? Alessandrini, vogliamo chiedere a Salvatore se lo vuole bene? Sì Sì, anche Salvatore lo vuole molto Però tu hai avuto un periodo Molto più Bello col mister Pugliese No, vabbè, Pugliese mi ha fatto esordire Non si dimentica mai E ha avuto il coraggio di mettermi in campo per fare partite Ma addirittura sto coraggio Mister se ci sei facci sapere se hai avuto coraggio a metterlo in campo Però l'importante è il bene della squadra Anzi, ora stiamo raggiungendo comunque Vittorie contro degli scontri diretti Alla seconda parte, parliamo un poco di prima categoria Adesso fermiamoci un po' Su di voi, su quello che è il vostro spogliatoio Vogliamo iniziare a ricordare qualche nome Di qualche vostro compagno Magari, se dico il più simpatico Non mi avete tenuto a voto Salvatore Perché non ne posso più Ecco, non è vero che ci si vuole Simo, il più simpatico dello spogliatoio Quello che se non ci fosse Non sarebbe sempre lo stesso allenamento A mio parere il più simpatico è Michele Tozzi Michele Tozzi Arrivato da poco in questa squadra Ma già si è fatto sentire subito dall'inizio Se la ride Salvatore, perché sei contento con questi Tozzi? Hanno un rapporto particolare Ecco, ecco, ecco Quindi per far ridere solo lui No, è il tram Ma il più simpatico è lui Ah, il più simpatico è Simone Quindi si nascondeva e ritrova una cuffia È vero, capitano? È vero, è vero Il più superante è invece Quello che non sta un attimo fermo Che il capitano deve intervenire Cuccinillo Cuccinillo, il nostro portiere Il vostro portiere Ah, beh, il portiere giustamente Se ne è pace il portiere Il portiere deve essere così Alessio Limone, il primo a destra Tale Crescitelli Salvatore E quello che se ne accrediti più Ma guarda un po' Tutti domani Ma è vero, se ne accrediti un po' Un po' così, dai Un po' troppo, direi Sì, abbastanza Ma perché dove ti vedresti, Salvatore Che te la credi un poco Eh, invece mi stavo a San Tommaso Ho avuto l'opportunità di andare in Serie D Poi mi sono stancato Ho detto pure di no Quindi mi sono giocato questo bel treno No, vabbè Tutti penso che sogniamo Di giocare in palcoscenici più importanti Eh, sì Spero di farlo con la maglia dell'Altavilla, ovviamente E quindi dobbiamo crescere Dobbiamo arrivare anche in promozione La promozione in casa tua sarebbe proprio L'ideale L'ideale Aspettiamo un po' proprio da casa Antonio Pasquino che ci saluta Ciao Antonio Stasà gonfia le rete Ha detto Nick Nick Ok Senti, la mezza punta Come gioca Mr. Pascale? Siamo, quest'anno abbiamo trovato Un'identità di gioco E stiamo giocando con il 4-3-1-2 Ok Ma fa contenta O 4-2-3-1 Anche 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 che c'è il posto per te Forza Sì, sì Dietro la punta Dietro le punte Dietro le punte Quindi una squadra anche abbastanza spregiudicata Sì, sì E chi corre? Io Sicuro non Salvatore Sicuro non Salvatore Assolutamente I centrocampisti dietro Salvatore corrono abbastanza Meno male Meno male Quindi abbiamo tre polmoni Ce li vogliamo ricordare questi tre polmoni Marinelli Polmone più grande Andrea Marinelli Andrea Marinelli Recupera pallone Anno 2001 2001 Daniele è forte Daniele è forte Il nostro mediano Doveva avere Non ha giocato L'altro mediano Daniele gioca ad isolare con la prima squadra Perfetto Bravo Daniele E poi gioca Amodeo Amodeo Mazzone Dipende Ce ne sono diverse Sì abbiamo Una squadra ampia Una rosa ampia Ok È giusto dare fiato a tutti quanti Senti Ad oggi pensate che questa classifica Poteva darvi qualche punto in più O state rispettando quelli che sono stati i valori Espresso nel campo Allora abbiamo pareggiato due partite Solofre e Lioni Entrambe Chi al 97esimo E chi al 93esimo Parliamo delle ultime due Quindi per chi non è avvezzo di questo campionato Solofre a secondo in classifica E Lioni invece quarto Noi scontri diretti Entrambi eravamo sull'1-0 E purtroppo All'ultimo Siamo stati fregati Però Il regolamento quest'anno come va? Non ricordo I primi quattro I primi quattro Quindi qui Siamo a meno sei Ok E infatti Chi entra invece nel campionato d'elite? Il campionato d'elite L'ho controllato È abbastanza complicato il fatto E chi va ai playoff E mi sembra chi supera il primo turno Sale Una cosa complicata Perché poi ne scendono due dall'altro Eh sì Ne scendono Sì Solo due È un po' più complicato Ok E quindi bisogna lavorare per il futuro Però voglio dire Forse dalla zona blu Se contiamo solo la terza Siamo un po' distanti Però due vittorie Vi separano da Lioni Soprattutto dal Marzano Che se non mi sbaglio Ha avuto partita persa a tavolino Questa settimana Sì ma comunque Aveva perso Aveva perso Ha avuto anche parecchie squalifiche Quindi è una squadra Che potrebbe cedere Sì poi Vedendo il calendario Noi dobbiamo affrontare Le ultime Tra le tre Delle ultime quattro E poi alla fine L'ultima giornata Contro la prima in classifica Ma quando si torna A giocare ad Altavilla? Poi? Questo è un grande dilemma Il campo diciamo che è pronto Però Non sappiamo ancora Quando potremo giocare No Eh beh penso che se lo parla A settembre Sì sì molto probabilmente Ormai La prossima stagione Chissà forse ci dovrà essere Gestione Tutto il resto Sì sono cose in cui Non entriamo in merito Non ci entriamo proprio Assolutamente Allora Nick Nick ancora ci dice Se la crede Perché se lo può permettere Vai Questa stagione E se proprio te va bene a stare Antonio Masquino Trebbe cento baci Tutti per te Mamma Salvatore Sei così Pragmatico In radio Madonna Sei così Pragmatico Che significa Ti capito Io non c'è Già di raggiungere Già di raggiungere Già di raggiungere In salita In salita Sì Nelle ultime partite Sta andando benino Aveva vinto anche una partita Poi vabbè è stato fatto ricorso Quindi Però Da non sottovalutare Ma siamo più forti Salutiamo il grande Big Che verrà dopo di noi Ciao Big Grande ciao Big E allora E poi Insomma Questo è il derby Per Antonio Masi Perché già col Montoro Me ne fotte proprio No È la lupo È la lupo Negranese Squadra d'eccellenza Che sta così messa male Eh sì Anche come prima squadra Sai quanti Soprattutto come prima squadra Sai quanti Dove avrebbero potuto fare Una bella esperienza Anche in squadre come queste Ma voi quanto siete disposti A viaggiare Ecco La vostra ambizione È magari Trovare una squadra di promozione Eccellenza Lì dove non ci riesca Ad arrivare l'Alta Villa E vi chiamano La squadra Che ne so Baiano E dovete fare Vedi quanti chilometri Per andare Magari Spese Rimborso spese Quasi zero Siamo disposti A fare questi sacrifici Oppure aspettiamo Che il tutto Si concretizzi In casa O a un minuto Da casa No Cioè Ne bisogna valerne La pena Secondo me Nel senso Spostarsi Sì Però con criterio Senza A messaggio Sto ragazzi Senza strafare Fare il passo Più lungo Della gamba Andare A fare 40 50 minuti Di macchina Ogni volta E Fare i calli Quindi Eh no No Certo È normale Che ci deve essere Almeno la soddisfazione Di giocare Bisogna pure avere La testa Per Eh sì Per fare una cosa del genere Per fare determinati sacrifici Tu pensi di averla Mirko? Io sì Perché Ho questa passione Che ci farà a calcio E sarei disposto Ti vuoi giocare le carte Fino alla fine Ok È giusto che sia così Non abbiamo parlato Dei vostri ruoli Abbiamo detto Che sta valore Vabbè È una mezza punta Però Simone Invece Terzino Terzino sinistro Terzino sinistro Ottimo Perché sinistri in giro Ce ne sono sempre pochi Tu sei il sinistro naturale Sì Ottimo Bene Bene E uno di quelli Che fa le sgaloppate Sulla fascia Ti contieni No 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 Sgaloppo Sgaloppo Malamente Ancora Alessio Limone Fonti certe Se non vincete con la lupa Padrón Spiniello Ritira la squadra Il nostro presidente Che salutiamo Salutiamo Vincente della Juniore Presidente della Juniore Padrón Spiniello Perché il presidente della prima squadra Spinello 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 Vabbè Vabbè Invece il presidente Della prima squadra Alessio Gaia Alessio Gaia Alessio Gaia 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 Non mi ero confuso Sì me lo ricordo Me lo ricordo Tutta la società Anche salutiamo Sì Ci mancherebbe altro Non ci fanno mancare mai niente Assolutamente Tutti belli vestiti U.S. Altavilla Un applauso Ancora L'U.S. Altavilla Allora Stavamo dicendo Dei ruoli Quindi il terzino Ci dì Il terzino Ce l'abbiamo Ah quindi Lui è il terzino Di paese Di paese Sì sì A randellare Malamente All'avversario O coscio pallone Solo poi Quanti cross Metti a partita Sui 30 Secondo me Sui 30 cross A partita Bisogna vedere Dove li metti È importante Arrivarci È importante Arrivarci Invece il nostro Mischio dove gioca Difensore centrale Difensore centrale È vero Una coppia centrale Dell'anno scorso Dell'anno scorso Capitano Difensore centrale Insomma Non è semplice Cioè specialmente Gestire No non è semplice Lì dove dovrebbe dare Una grossa mano Il portiere Quanto vi aiuta Il vostro portiere A mantenere la concentrazione A mantenere le posizioni Abbastanza Diciamo Dai Ci aiuta Deve migliorare Deve migliorare Diciamo così Potrebbe dare La testa Deve migliorare la testa Tutti quanti noi Dobbiamo migliorare Soprattutto la testa Perché non ce l'abbiamo È bravo Molto bravo Solo che Deve migliorare Come di solito L'anno scorso Poi ci avevi dato Un buon portiere Sì L'abbiamo Dato alla vista Alla vista Tu sei ricordato Di un suo movimento A migliorare la posizione Va bene Allora noi ci fermiamo Un attimo Ascoltiamo Una bellissima canzone Faccel'ascoltare Una bellissima canzone Non fare come Davide Annuzzo Che mette Dei purpi Incredibile Metti Achille Lauro Che pianta Ecco bravo Sì Metti quella là Va bene Grazie Ho una cosa da dirti da tempo Ma non ho mai trovato il momento Potrei farlo qui Non mi importa se Questa gente mi guarda ridendo Giuro l'altra notte è stato bello Non esci più dal mio cervello Non basterebbe un solo anello Tu vali più di ogni gioiello E chissà se Quando parti poi ritorni qui da me Dimmi se Questo sentimento vale anche per te Balla finché Rimanendo ad occhi chiusi Mi dà un bacio e poi ti scusi Resta qui solo un secondo in più perché Ti volevo dedicare Mille canzoni scritte Una chitarra da accordare In quelle notti fino a quando sale sale Il sole effetti il conto delle ore Ti volevo dedicare Quello che provo e non so cos'è È quello che provo Non diciamo per sempre perché mai nulla dura in eterno Se credi troppo nei sogni poi ti risvegliano sul più bello Tutto sembra un déjà vu Mille parole alla tv Coca-Cola e Malibu Valiamo come una tribù E chissà se Quando parti poi ritorni qui da me E dimmi se Questo sentimento vale anche per te Balla finché Rimanendo ad occhi chiusi Mi dà un bacio e poi ti scusi Resta qui solo un secondo in più perché Ti volevo dedicare Mille canzoni scritte Una chitarra da contare In quelle notti fino a quando sale sale il sole E perdi il conto delle ore Ti volevo dedicare Quello che provo e non so cos'è È quello che provo Non so fare serenata e serenera serie E Non seguo la moda ma ritorno vinile Non so se Maradona era meglio di Pelé Ma il calcio femminile è di sicuro più virile Donne contro baschi servono entrambi Anche se diversi come gli occhi degli aschi Amo gli incostanti Parti come Heidi Ti sfogli come Miley Tutto fatto come Billie Eilish Quando sei vicino sei polemica Quando sei lontana sei l'America Fai scorrere sangue nella mia vena poetica Come Lucio dalla parte la mia mano Che ti fa una dedica Penso a te le parole sono in metrica È facile trovarle come l'erba su Telegram Quelle bugie sono in vendita Tu sei siero della verità Meglio del Pentotal La sensazione che a volte mi sale È che stiamo bene come spiaggia e mare Come barche all'orizzonte Ci perdiamo tra le onde Bene e male si confonde Tra le nostre ombre Fino a quando sale il sole E perdi il conto delle ore Ti volevo dedicare Quello che provo non so cos'è Quello che provo non so cos'è Ti volevo dedicare Quello che provo non so cos'è Eccoci ritornati alla seconda parte Del calcio che scotta Oggi è giovedì 27 giornata particolare Perché noi andiamo sempre Non del venerdì Non ce lo dimentichiamo E stasera Abbiamo qui con noi L'OS Altavilla ancora Un applauso a noi Che siamo qui Sento alzato le ascelle È uscito un cattivo Simone No no ero io Perché mi arriva troppo sotto la nasa Va bene Perché più caldo e freddo fa Più ci imbottiamo Più sudiamo E più malevatoriamo Va bene La mucchina è nelle mutande Che ogni tanto Le faccio una passata Va bene scherziamoci sopra Allora Carlo